I'm sitting down here by hate Le voci per la regia di Gianni Turco Prossimamente su questa emissente È un presidio di musica e spettacolo Prima della visione leggere attentamente i titoli di sigla Tenere alla portata dei bambini Somministrare a tutte le età Può avere affetti collaterali In caso di uso prolungato consultare il vostro regista di fiducia